www.fema.it e o quei군i, come tu compone il nostro, sai, sai, sai mi coso coordinate, ho più lento, che non ti dau ho più videoanze che mora di più mi ha detto, lo chiama sono un capirato ma che da bell'ombaldera è più dentro, che era dentro... ...che la tenda, i poli, hanno scalchiati che ora, che tu compasso dentro io dovevo tutto fare più la musica a tu da capo un minuto più, le pollo, da lì, da lì, da lì a tu da capo un minuto più, da lì, da lì, da lì Pondagaluti, ampariamo tutti i miei! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti